Benvenuti al primo numero della video newsletter del canale. Questa iniziativa nasce da varie esigenze, la prima delle quali quella di sostituire il video di presentazione del canale. E infatti questa prima uscita, che è griffata con il numero zero, ha come uno dei suoi due scopri principali proprio quello di presentare il canale. D'altra parte la video presentazione che al momento è presente possiamo considerarla obsoleta. L'altra grande esigenza è quella di tranquillizzare voi che regolarmente guardate i video sul mio canale relativamente al mio look, il look che vedete in questo momento. Questo perché i video che verranno presentati nel prossimo futuro, forse anche alcuni video che avete visto di usciti di recente, sembrano alternare proprio due look differenti. Il motivo è abbastanza semplice, ho ancora diversi video da pubblicare all'interno delle varie serie in cui ho appunto il look precedente, quello senza pizzetto. E visto che molti hanno apprezzato anche su web il nuovo look, mi sentivo in dovere di doverli tranquillizzare. Il pizzetto c'è e resterà a lungo con noi. Vediamo ora l'altro grande obiettivo di questo numero zero della video newsletter, cioè presentare il canale. I video che potete trovare sul canale, almeno quelli che vengono realizzati in questo periodo, sono suddivisi in quattro grandi categorie. Di queste due le possiamo considerare come delle vere e proprie video rubriche, perché hanno una cadenza abbastanza precisa. Una è sostanzialmente settimanale, salvo qualche ritardo di uno o due giorni, e l'altra è mensile. Sto parlando per la prima serie di Disney Comics and Science, ovvero una serie di video in cui, utilizzando le storie disneyane, cerco di raccontarvi qualcosa di scienza, in particolare fisica e matematica. Le storie vengono selezionate o perché sono storie che appartengono alla serie Topolino Comics and Science, o perché sono in qualche modo realizzate con la collaborazione di istituti di ricerca italiani, oppure semplicemente perché sono presenti degli spunti che sono scientificamente interessanti, proprio per raccontare qualcosa sulla scienza e la sua storia. L'altra serie o video rubrica è Collezione Disney. In questa serie sto cercando di raccontare la storia delle pubblicazioni disneyane in Italia, utilizzando come oggetti fisici proprio gli albi appartenenti alla mia collezione. In questo momento i video appartenenti alla serie Collezione Disney sono tutti stati girati nell'estate del 2022. Questo perché l'estate è fondamentalmente il periodo di tempo nel corso dell'anno in cui sto più a contatto con la mia collezione. Oltre a queste due serie, questi due gruppi di video che sono classificati all'interno di serie ben precise, ci sono altri video che ricavano in due grosse categorie che sono una grande famiglia di video dedicati a fumetti disney senza alcun gancio scientifico e un'altra categoria di video che sono dedicati al racconto della scienza, senza alcuno spunto pop esterno come possono essere appunto i fumetti disneyani. Effettivamente entrambe queste due categorie necessiterebbero di una strutturazione un po' più definita in video rubriche, però in futuro è possibile che spunteranno delle nuove video rubriche. In queste ultime parole vi sto anche dando uno spunto su ciò che vorrei sia questa video newsletter, ovvero anche un racconto non solo di ciò che è o di ciò che è stato, ma anche di ciò che sarà, delle idee che ho intenzione di mettere sul canale, ma anche delle idee che ho intenzione di sviluppare pure per i vlog, quindi anche per la parte scritta. Arrivati a questo punto mi sembra di aver raccontato un po' tutto quello che volevo mettere in questo numero zero, per cui come al solito non mi resta che invitarvi ad iscrivervi al canale e attivare la campanella per ricevere le notifiche su tutti i nuovi video caricati, per cui non mi resta che salutare a tutti come al solito dal resto.